Tre minuti, era passata la mezz'ora, e giunge l'episodio del rigore, con Ferrara atterrato in aria su passaggioli dalla costa. I ciociari protestano, ma il signor Mantovani, ovviamente, indica il dischetto senza batter ciglio. Di Bartolomei spara la prima fucilata e stende cari. Però poi il frugia con artistico, che sfrutta una respinta di imparato, che aveva intercettato una conclusione di Poli. Il pari però non sembra il risultato più giusto, ma il piacere che suscitano le grandi giocate negli appassionati di calcio. Una bordata che non lascia scampo. Alla fine di Bartolomei...